... Sentite babbo, io non so bene quello che ho in corpo. So soltanto che non avrò pace finché non avrò trovato le tre mele arance d'amore. Lasciatemi partire per cercarle. Il re tentò di persuaderlo che il suo era solo un capriccio, ma il suo era sempre assorto. E poi? Dai, leggi! Arita, non leggi più! Tu devi essere uno. Sì. E tu? Anita. Anita Furlan. Veneta, eh? Sono della provincia di Verona. Verona? Ci abbiamo fatto il campo, Verona. Sei profuga? Sì. Ho perso tutta la famiglia. Vai.